Le potenze militari mondiali ci tengono sotto la loro ombra potente. Gli Stati Uniti dominano con la loro tecnologia d'avanguardia e un budget da capogiro. La Russia non è da meno, con il suo arsenale nucleare pronto all'azione e tradizioni tattiche ben radicate. La Cina sorprende con il suo immenso esercito, crescita tecnologica rapida e ambizioni spaziali. Non da meno, l'India continua a costruire la sua forza cercando di tenere a bada i vicini. Infine, la Francia mostra i muscoli con una presenza militare globale. Quale pensi sia la vera misura della potenza militare?